Prima di guardare il video ricordatevi di mettere un bel like e di iscrivervi al canale Benvenuti, oggi giochiamo a Five Nights at Freddy's Vediamo cosa ci riservano oggi gli animatronics Scegliamo subito qualche animatronic Andiamo un attimo a vedere cosa ci può ispirare oggi Andiamo a mettere sicuramente il buon foxy Magari lo mettiamo a livello 2 perché abbiamo iniziato da poco ragazzi Quindi non andiamo oltre Mettiamo anche la marionetta a livello 1 E io direi, giusto per dare un pochino di pepe Proverei a mettere anche questo signorino che si chiama Ennard Ok, sei pronto? Com'è? Leonard C'è scritto Ennard Ragazzi, Ennard, ditemi se sbaglio Comunque, sei pronto? Allora, un attimino di concentrazione perché non è... Cerca di non... Cerca di non fartela sotto Sei pronto? No Perfetto, adesso sì Pronto, e partenza Via ragazzi, partiamo C'è una bambola assassina che ti attiva un altro animatronics Attenzione Ecco, è di già C'è già la marionetta che è agitata Cos'è sta cosa? Perché fa così? Perché fa così? Perché la marionetta è proprio schifo Non c'è modo di... Sì, 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 sì Silenzio, silenzio Questi non ci servono però Perché non c'è Freddy, no, Foxy Foxy, fai il bravo, Foxy Menomane che non gli ho messo Rockstar, Foxy È lì Che? No, no Questa marionetta di sopra... La bambola assassina Oddio ragazzi, arriva un nuovo contendente Ma perché si vede sempre questo qua? Perché si vede sempre questo? Se lo guardi per troppo tempo Non ti chiamerà Mi sa Se lo guardi per troppo tempo Vedi che se lo guardi più tempo Lui si oscura e si oscura Vuol dire come se sia visibile E se tu me l'avessi detto prima? Perché mi è venuto in mente solo adesso? Bravo E non ti da piangere dopo il latte versato Eh? Va bene Non fa niente Ti perdono Quindi... Quindi c'è anche questo fatto Non... Ah, non muove Aspetta Non let you murkass Ah, questo è diverso Pensavo fosse quello della musica io E ti ha attivato questo? E chi ha questo? Te l'ha attivato la bomba È invisibile le camere E si può solo essere visto Quando si riuscirà la sua scuola La sua scuola Si chiama la sua scuola Si chiama la sua scuola Si chiama la sua scuola Per mandarlo in la scuola Ah, però... Mettiamolo a livello 1 No, non mi aiuti Vabbè Allora, si gioca Adesso gioco io, ragazzi Mi raccomando Lasciate un like Allora, la musica non ci interessa Sì, l'ho messo a livello 1 Ho messo anche quello della musica L'ho messo a livello la marionetta Ho messo la marionetta, ragazzi A livello 1 Quindi Fossi Al posto di Fossi Molto bello Attento Mondano Sai come si batte, quindi? Iniziamo ricaricare la musica La marionetta Se non si arrabbia Foxy L'ha tenuto controllato Ma è possibile che questa cattivona Si fa sempre vedere A metterci le musiche nuove A metterci A metterci I nemici nuovi Questa Adesso ce lo mettiamo Si avvicina Foxy si avvicina No, 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 no Caro, stai lì Stai lì Non venire da me Che sono tranquillo Nella mia bella scrivania Nel mio ufficetto Ah, via, via, via Nel mio ufficetto Stai buono D'altronde Foxy Dove è finito Foxy? Non può finire Adesso ti arriva davanti Alla faccia Ci fa un jumpscare Ah, io non vado a vedere Nello schermo Io non vado in ufficio Così non mi fa lo jumpscare No, te lo fa comunque Ah, no, è lì È lì Ecco Dov'è? È lì, è a terra E cosa si fa lì? Oddio È vero Non ti prende Perché ti è andato in testa Ma tu avevi Un passo di ferro in testa Era tipo l'altra camera Ho sbattuto TAN Botta la testa Ma Che schifoso Non pensi che lo sia anche lui? Anche tu non pensi che lo sia No, 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 no Non va bene Allora, io volevo andarmene Ma non mi ha messo La freccettina Sul controllo Per cambiare lo schermo Non è stato molto corretto E basta con questo coso Che non mi fa guardare nel mio ufficio Adesso ti spunta Foxy Mi sbatte la testa Siamo mozza Ma tigettoni Sono ricco ragazzi Che me ne faccio Tigettoni Devo sciopare Sciopare su Fortnite Poi, allora Cosa c'è tra Fortnite? Perché Stai agitando Foxy Stai buono Foxy Stai al tuo posto Il suo alito Non è possibile Oh 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 Ah se metti la maschera Scompare subito Hai visto? Buongiorgio La marionetta Unico modo per cacciarlo E scaldandogli Il sederino Io invece mi sono scaldato Anch'io Di che se metti la maschera Scompare subito Oli Vediamo subito Foxy Che fa il furbo Eh sì ma Foxy Subito così Musica Non fare troppo rumore Sennò io non sento La ventolina I cose Se passano nel Cosa non li sento Se passano nei condotti D'aria Lì Ma se io spengo Tutto Tipo Ma non spegne tutto X Non spegne tutto Tutto off Ma è già Tutto off Qui Mamma mia Ma non è possibile Che questa luna È già qui A rompere Questa musichetta Non mi resta in testa Che devo andare a fare La musichetta Prova tu adesso Dai Vediamo cosa fai No Eh perché Non hai portato Le mutande Di ricordo Se l'avevo sul giubbino Però il giubbino L'ho lasciato su Allora Ma per fortuna Che non gioco io Non la posso Quando vedi Foxy Tu continua Con la telecamera Che è sbattendo La testa Capito No Dai sta Tipo Tu Con la telecamera No Non credo che sia così Prima era successo così Perché Foxy era a terra Non so se l'avevi vista Era là Ti ho visto Mascherina Rimani lì No Tu tieni questo pezzo di ferro In mano Quale pezzo di ferro Questo è quello che stai usando Nella telecamera Il pezzo di ferro Questo pezzo di ferro Ma Foxy ha sbattuto Aspetta aspetta Perché io qua mi sto incasinando Foxy Foxy dove sei Oddio Foxy è in giro ragazzi Foxy è in giro Vabbè Ragazzi ho perso Foxy Ho perso Foxy E secondo me adesso Mi da una Un jump scare Di prima categoria Sarà di zero Il migliore Ma perché ti prendi le monete Se non servono niente Mi piace prendere le monete Lo sapete Perfetto Tutti a venti Mi caccherò Sotto E madonna Già Già lui Già lui Ecco perché continui a Ma io preferisco fare così Non serve a niente No Devi andare Foxy Foxy Ricordati la musica Nella stanza Nella cam 4 Vai nella cam 4 A vedere che punto è la musica Non consumare la corrente Per niente Dai togli la rimetti off Ok Foxy Eh attenzione Tu adesso so che sei felice Hai denti d'oro Schifoso Challenge Fammi vedere Togli sta cosa Ma c'è l'uccellino Resetta Ma c'è l'uccellino Non c'è l'uccellino Vai la musica La musica Controlla cam 4 Accendi la global pump music power Adesso torna in l'ufficio un po' No via di qua Andiamo via dall'ufficio Eh ok Controlla Foxy Che lui è furbo Ok togli la global music Perché? Perché è già al massimo Stai consumando la corrente Metti la maschera Ok Guardate un vero No 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 Non mettergli il mouse sopra E non lo so Non devi guardarlo troppo Tu lo guardavi Deve proprio cambiare Telecamera E facciamo un ultimo giro Dai Quale vuoi? Allora Cancellali tutti? Ma no No voglio entrambi diversi Non ne voglio troppo Qui Qui Ecco Sono tutti su dieci Tutti su uno No Uppetto Una fortuna Auguri In bocca al lupo Siete siete Adesso spunta tutto Sono tutti animatronic Che noi non vediamo E stiamo tutti a uno E' possibile E vedi Ma ti sei carcato sotto Ragazzi ho voluto sperimentare Ho voluto sperimentare E' andata male Allora Facciamo tutti a zero E sceglie qualcuno Dai Io direi di scegliere Tutti freddi Tutti a uno però Un freddi Due freddi Tre freddi Quattro freddi Sembra cinque freddi Questa Dove c'è freddi Poi qua c'è un altro freddi Tutti freddi Un altro freddi Tu sei matto E poi magari Se c'è un altro freddi Questo è un tipo di freddi Sono indeciso Ne vorrei mettere altri Troppo tardi Ho già fatto start Ho già fatto go Come ho fatto Ma cosa Ma è eterno di giocare Ma questo come si ferma Cosa vuole No ti aiuta Ah no vero Ah si mi ha aiutato tanto Fatto tantissimo Fatto tantissimo utile Solo 19 secondi No bisogna cliccare La stessa telecamera Che sta guardando lui Secondo me Perché qui non ci sono altre Ci sono tutti i freddi Prima il signorino Non c'è Beh non c'è lì Me l'abbiamo messo Ah cam 3 E cam 3 Devo guardare cam 3 E' questa E' vicino a Yow Ho capito ma è la destra forse Game over L'ho fregato L'ho fregato Ma scusami da dove entra questo Bene ragazzi Sa dirmi come si ferma Questo signorino Me lo faccia sapere Addio Alla prossima Ciao